Pronto? Pronto? È Davide Mezzanotti Oh Davide, ciao! Ti chiamo perché devi saperlo Dove ti incontro? Ti do un pugno nel muso e non ti dico neanche ciao Scusate voi da me scuse Ti ho chiamato Candi Il ragazzo è venuto da noi oggi e ci ha detto che viene a giocare a Trestina perché gli date il lavoro Ma tu Cangi Ma tu sei fuori di***e Ti hanno preso per il culo Ma potrò prendere i calvi a tuo calvi E tanto il campionato lo vincono la sua base del Villabio Prossima volta se vuoi ti do anche il suzito Allora facciamo così Roberto senti lo porti giù venerdì sera Caffè Sport ospite insieme a te Va bene? Ha 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 Ma di***a sta buona Ripetto non ti ho detto troppo insassate Sì, sì.